Nel 2013 dalle mie idee è nato fondamentalmente il progetto dei Mad Cable. Le mie idee grazie poi all'aiuto di alcuni ragazzi che ho conosciuto via web tramite il villaggio musicale. Dietro il web le interconnessioni, i cablaggi, tutte queste cose ci siamo immaginati. Abbiamo pensato di tirar fuori il nome da questo gruviglio di cavi che ci è nascosto dietro ai portali, ai siti, anche sotto la nostra scrivania, cioè piena di cavi fondamentalmente. Dal primo progetto nel 2013 è nato RISE, è stato pubblicato poi nel 2014 un EP autoprodotto, poi la formazione in quell'occasione si è evoluta e nel 2015 grazie ad Alka Record Label e a Massimiliano Lambertini abbiamo prodotto Psychotronic Drugs che è stato il nostro secondo EP. Un altro cambio di formazione proprio perché Mad Cable, essendo una band giovane, le persone si sono incrociate anche in funzione degli impegni, a volte si sono trovate, a volte non si sono trovate, fino ad arrivare alla formazione attuale con Samuriel e Andrea. E niente, penso di aver detto tutto, quasi tutto della storia di Mad Cable. Your Fire è il nostro nuovo singolo, è stato prodotto in collaborazione con Alka Record Label insieme a Massimiliano Lambertini. Abbiamo pensato il video sotto forma appunto di un video ironico dove cerchiamo di far figurare come in realtà il rock non sia una cosa semplicemente visiva, non dei tipici ragazzi col chiodo ma anche di ragazzi comunque un po' sfigati che sono davanti a dei metallari. E' appunto come detto una cosa ironica e ringraziamo anche per il video dei nostri amici che ci hanno aiutato che sono studenti, è stato un video autoprodotto invece, poi lavorato comunque da dei professionisti. E per quanto riguarda le tematiche della canzone, è un tema comunque ambientale. Noi parliamo di Your Fire, questo fuoco che ci brucia dentro, questa bramosia nella cercare sempre comunque qualcosa per abbattere la nostra depressione, che ci spinge sempre più avanti a cercare una risposta tramite l'acquisto comunque di qualcosa e cercare qualcosa, la ricerca compulsiva, ecco diciamo. E di conseguenza inquinare. E di conseguenza inquinare, non inquinare. Non inquinare. Beh, allora il nostro futuro parte ovviamente da Your Fire e stiamo già lavorando a dei pezzi nuovi, li abbiamo già fatti, adesso stiamo modificando, comunque mettendo a posto tutti i nostri pezzi e ovviamente creandoli nuovi, ma già si sente il nuovo tiro che hanno i Matt Cable, la nuova formazione comunque nelle nostre capacità anche. E tutto questo per un nuovo CD ovviamente, che speriamo esca entro l'anno comunque, entro la fine dell'anno. Ci ammettiamo tutta. Ci ammettiamo tutta. Sì, allora ci potete trovare nella pagina Matt Cable, sia su YouTube che su Facebook, che comunque teniamo aggiornato. E inoltre stiamo mettendo a punto il nuovo sito mattcable.band, che sarà presto comunque visitabile. e adesso stiamo facendo ulteriori modifiche e comunque speriamo che sia online a breve. Online a breve.